Ciao amici della Valsh e benvenuti in questo nuovissimo video Noi siamo lasciati che avevo praticamente completato il portale E adesso siamo effettivamente nell'end Raga adesso voi mi vedete che praticamente già sto nell'end E vedete anche... vabbè no, si è ripreso alla vita Qui dentro praticamente già non ci sono più tutte le cose Perché non ci sono più tutte le cose? Perché io avevo fatto effettivamente un video con Cristian Nel quale lui mi aveva fatto anche uno scherzo Perché praticamente mi aveva... cioè dovevamo registrare E lui mi aveva... cioè mi aveva detto vieni mi ha fatto venire E si è buttato giù tutta la mia roba Però fortunatamente aveva fatto un backup e quindi sono riuscito a riavere tutta la mia roba Però poi dopo abbiamo fatto un video dopo lo scherzo e abbiamo registrato tutto Solo che il video effettivamente non lo trovo più E quindi dobbiamo andare ad affrontare l'ender dragon Ma tutta la vita solo che non ha più le cose dove lui si rigenera E quindi adesso dovremo provare a ucciderlo con la mia mira di merda Guardate se ne scappano stelle... Oh, ehi! Oddio, raga, oddio Mi servirebbe effettivamente una mela d'oro per sfidare a questo bellissimo giovincello Però noi l'andremo a sfidare così molto sciallamente perché ti va a nascondere dietro le colonne Ora lo devo colpire Raga, ora... Sì, ma quanti ne siete voi? E' una fatica cosa che noi conosciranno Sì, per il spiro di drago mi servirebbe pure Però... Oh, è cerotto Cerotto Allora... Allora... La mano stigosa, no? Ok Qualcuno giusto per farne... Dico... Deve morire... Malissimo! Eh, ma se magari lo riuscisse a colpire... Cioè, sarebbe anche figa come cosa Ma la... Dove se il vino qui non servisce danno, quindi... No... Aia! Fa sto respiro di drago che fa un male boia E... Veramente non so che cosa fare Raga, ma sta laggando Perché lo... Madonna, non capisco niente, raga Raga, guardate con quanto è rimasto di vita Porca... Raga, forse è stato il primo Ender Dragon Con cui veramente ho faticato Perché... Cioè, nella 1.8... Vabbè, la 1.9 non l'ho mai sfidato Nella 1.8 era più semplice Invece mo... Cioè, per dargli un cavolo di colpo Sì! Raga! Raga! Ragazzi... Ci siamo, forse ci siamo, raga Dai, raga, ci siamo Dai, raga! Ah, fammi prendere queste robe qua Mi dimentico Pia, pia Dammi, 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 dammi Però c'ho la spada colline Quindi mi danno un bel po' di... Di... Ender Raga, raga Andiamo a prendere tutta la nostra esperienza Che abbiamo perso per ritornare a casa nostra E adesso la prendiamo Eh, sì Però fammi prendere l'esperienza in santa pace Ah! Oh! Non ti sopporto Mamma mia Staccati un po' di addosso Raga, 68 livelli Raga, 68 68 68 Non voglio dire 68 E adesso dove quel cosetto? Vabbè, a parte dobbiamo prendere Il... Lender egg Il... Il dragon egg Che lo prendiamo in questi episodi Devo proprio per chi Per chi lo devo prendere E poi devo trovare Ah, ecco sta lì Raga, abbiamo lender dragon lì Eh, lender egg lì Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo fare una cosa... Una cosa del genere Ok E dobbiamo andare a prendere Dei... Ehm... Dobbiamo andare a prendere Effettivamente Ehm... Dobbiamo andare a casa Quindi per andare a casa Che dobbiamo fare? Sapete che dobbiamo fare? Tantara! Tantara! Bish! Achievement get the end Raga, siamo a casetta nostra Sì, siamo di ritorno Da una bellissima sfida Ed è mi piaciuta veramente un sacco E quindi adesso raga Dobbiamo armarci di rotaglie Che io già dovrei avere le rotaglie Perché... Di ferro mio Cazzo un bo... Allora, tanto raga Il ferro Ce l'ho A questo punto Sfruttiamolo No, aspetta Che caro sto facendo? Una Raga, 16 cosette Qua non so cosa possiamo fare Con queste 16 cosette Però Noi ce le temi Mettiti bene Per favore Mettiti bene Ma mettiti bene Ma sei gentilissimo Stranger Dragon Che nelle mie serie di Minecraft Non ho mai preso Raga Rotaia Pronti Boom Abbiamo un lander egg Abbiamo un lander egg raga Domanda C'era dell'ossidiana? Ho dell'ossidiana Ho Dovrei capire Non ce le ho D'accordo Devo fare tipo la Ender chest D'accordo Un attimo Nel nether Tanto nella cortezza Ah, poi voglio fare anche la famiglia di Blitz D'accordo 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 Zerote Che ne dovrebbero bastare una E, vabbè, ci vediamo dopo Ok, raga Sono di ritorno dal nether Ti apri, cazzo E, andiamo a craftare questa bellissima Allora Ne ho prese sei Ne trasformo solo un po' Ne trasformo solo una Faccio effettivamente Tre Faccio una Questa Una di queste E, aspetta come era Dovebbe essere tipo così Sì, ok Però ne devo fare due E quindi Ovvero Ne le posizioniamo un po' da tutte le parti La metto proprio in camera mia Boom, qua E metto effettivamente il land rag qui dentro Sì E me ne manca una da piazzare Che andremo a piazzare Nel land Ok, raga Ecchi me Ne metterò una Esattamente Quelle Boom Eccolo qui E, no Questo no E, vabbè, raga Ci vediamo al prossimo video Da Losh è tutto Da Lel09 è tutto Ciao E, c'è un prossimo video Ciao Everybody fucking Ciao